Qual è la dittatura che io vengo qua a fare il dittatore con loro? Cosa gli dico? Sanno moltissime cose che io non so. Come faccio a imporre una mia linea politica della gente così, che sa molto più di me nelle commissioni? Io non so niente, io vengo tre, quattro volte qua, sono impressionato e me ne vado.